Sì, ciao, ho il microfono perché c'è un po' di vento, da Nicola Castiglione e da Marco Iurlandino che tra l'altro sarà protagonista di un'intervista che faremo assieme nei prossimi giorni, ci svelerà un po' di segreti, un po' della sua vita, le aspirazioni, questi team di Formula 1 che lo stanno aspettando per accoglierlo, ha già fatto dei colloqui, ci sono un po' di storie molto molto carine a raccontare, però avrete capito già dove ci troviamo in pista, la faccio vedere alle mie spalle, ma siamo qui per commentare le prove libere 2. Prove libere 2 che eravamo in macchina, io che Marco, perché ci stavamo spostando qui per girare di sera, perché con queste temperature così alte non si può fare altrimenti, e prove libere 2 che quando ha sbattuto Charles Leclerc ci siamo subito telefonati da una macchina all'altra. Allora, come hai visto queste prove, fai tu una prima analisi, sei l'ospite quindi vieni prima e poi io dirò la mia. Sì, allora innanzitutto ancora una volta buonasera a tutti, allora le prove libere, le prove libere 2 abbiamo visto che partirei dall'errore di Leclerc, poi magari tu approfondisci meglio, un errore un po' di testa più che di piede, un errore evitabile dopo 15 minuti dall'inizio delle prove libere 2, è andato molto, è entrato molto forte in curva 4 e andando a finire poi nel cordolo con una vettura molto bassa, grazie anche al nuovo fondo, questo ha compromesso diciamo le prove libere 2 di Leclerc. Dall'altra parte abbiamo visto un Sainz buono sul giro secco, buonino sul giro secco, mentre nel passo gara era leggermente indietro rispetto a, soprattutto rispetto a Norris, che ha avuto un passo estremamente costante sul 24, 24.0 e anche Verstappen ovviamente, invece Sainz ha avuto molto più degrado rispetto a loro, quindi questo è Verstappen dall'altra parte, a quanto abbiamo visto ovviamente sempre dalla macchina, quindi a grandi linee, ha avuto un po' da ridire sulla vettura, soprattutto all'anteriore, si sentiva non troppo confidente con la vettura, e abbiamo visto un Perez diciamo leggermente più brillante di quanto ci aspettavamo, però sappiamo che Verstappen anche nell'ultimo giro del suo lungo stint del passo gara ha comunque tirato un 24.0 e ha fatto il suo miglior giro della sessione, quindi sicuramente ha qualcosa in tasca. Bene, vado io perché devo farla veloce in quanto se no rischio una paralisi al braccio. Allora, iniziamo da Casa Ferrari. Casa Ferrari, io spero che voi ci vediate bene, perché noi non vediamo quello che stiamo inquadrando in quanto c'è il riflesso, o per meglio dire si vede male. Poi spero che ci sentiate bene perché c'è un po' di vento, stranamente non si è mosso un alito di vento, ma in questi giorni però si è sparsa la voce che dovevamo fare il video, e quindi immediatamente si è alzato il vento, però dai cercheremo di fare una buona analisi anche questa volta perché come ha detto Marco le abbiamo viste guidando, le abbiamo viste in macchina, quindi non è il massimo della vita, poi soprattutto Marco ogni volta è come se avesse un ufficio della NASA pieno di strumentazione, mi ha fatto vedere delle robe incredibili, ma del resto altrimenti non saremmo qui a discutere di Formula 1 con lui e sul suo futuro, perché io sono sicuro che lo troveremo presto in un ottimo team in Formula 1. Comunque, detto questo, iniziamo da Leclerc. Allora, in tutta onestà, tenimi un attimo il microfono perché cambio mano, qua ci dobbiamo arrangiare anche perché sono veramente un pirla, perché mi sono dimenticato il cavalletto a casa, allora, nella fretta di partire. Allora, in tutta onestà, io sono sincero, sai cosa ho pensato? Ho pensato, se fosse stato un mio pilota oggi, qui in pista, come avrei reagito? Volete sapere la verità? Io non dico mai parolacce, ma mi sarei incazzato di brutto. Io, a video perché poi qualcuno scappa, mi sarei veramente imbestialito come una iena feroce, perché, onestamente, in un momento in cui... Io, sapete, Tifone e Leclerc, mi piace tantissimo, però in un momento in cui devi portare chilometri ai box, dati, stai mettendo a punto una configurazione che sembra andare bene, perché tutto sommato la guidabilità della vettura è parsa buona, e soprattutto con Sainz, anche il giro veloce fatto con le medie, come Verstappen non era male, ha finito un decimo da Verstappen, dai, ci può stare. Però, parliamo di Sainz, Leclerc, quando è uscito, aveva un ottimo primo settore, ma non si può esagerare così, cioè, è andato a 280 e rotti in una curva difficilissima, tieniti qualcosina, d'accordo, stai tirando per il giro più veloce, però siamo in prove libere 2. Un errore del genere incide sul tuo weekend di gara, incide sul weekend di gara della Ferrari, che ha avuto una macchina in meno, in un momento cruciale, in un momento cruciale, e soprattutto, ragazzi, incide sul budget cup. Questa è la cosa più grave, che incida sul budget cup è veramente, veramente grave. Ora, siccome non è il primo in questa stagione, allora, secondo me, la convivenza con Hamilton gli farà solo bene, perché certi errori, soprattutto se avranno una macchina vincente, non potrà permetterseli più. Io, onestamente, sono un po'... Lo ero già a Miami, lo ero già a Miami, poi l'errore dell'Austria non l'ho visto, però qui sono veramente, un po' adirato con lui, tieni qua che devo cambiare il braccio, sono un po' adirato con lui, perché è un errore che non puoi permetterti in un weekend così delicato, dove la Ferrari si gioca il ritorno nelle posizioni che contano. Poi il passo a gara, come hai detto tu, è stato abbastanza indecifrabile, proprio, anzi, se dobbiamo essere sincero, ottimi in PL1, ma scarsissimi, con il solo Sainz in PL2, però non c'è il paragone dell'altra macchina, non c'è il lavoro differenziato, quindi si sono persi dei dati importanti a causa di un errore che secondo me era molto, molto evitabile, anche perché è un errore di foga, poiché è avvenuto nel punto più veloce, nella curva più veloce della pista, curva 4. Quindi, ho notato che quando tengo con la sinistra tremo un po' lo schermo, ragazzi, scusatemi. Poi, passiamo agli altri. Allora, io direi Red Bull, veramente, si sono messi a posto. Tanto, tanto, tanto. Perché è vero che Verstappen si è lamentato, ma è meno del solito. Poi, i homeboard camera davano una buona guidabilità della vettura. Secondo me, meccanicamente, sono a posto con tutte e due le macchine. Abbiamo visto Perez che andava, poi domani la pista, al solito, ci dirà qualcosa di più. però la Red Bull, secondo me, con questo aggiornamento, che non è detto che dobbiamo vedere un aggiornamento che migliori la vettura dei tre decimi, può migliorare anche la guidabilità, e abbiamo visto come il passo stavolta era veramente buono di Verstappen. Allora, secondo me, Red Bull è tanto tornata in corsa e non sapete quanto auguro di sbagliare questa analisi. Cioè, mi auguro di sbagliare questa analisi, ma veramente, me lo auguro con tutto il cuore, ma credo che non sia così. Giriamoci un po' più verso il sole che siamo meglio illuminati, anche se più accecati, perlomeno io, tu hai gli occhiali. Poi McLaren è sempre presente, eccola, definirei così. Ha fatto il miglior tempo con Norris, però con le Soft, e invece... Piastri è andato lungo. Piastri ha danneggiato il fondo nella stessa curva di Leclerc, e per quel che riguarda il miglior tempo, due decimi per Verstappen, ma con una mescola di differenza. E poi c'è l'incognita delle Mercedes, che in queste PL2 sono sembrate un po' anche loro indecifrabili, come la Ferrari Designs. Non si è ben capito quanto fosse su di motore, giù di motore, perché in PL1 tu mi hai detto che erano su. Ferrari 3. Quindi vediamo poi in PL2 come sono andate. Ti è che cambio mano ogni tanto, ragazzi, che ci volete fare? La tecnologia è questa. E quindi questo. Questo è come abbiamo visto noi, queste prove, Perez R di vivo, però al solito poi vediamo nei momenti che contano. in ogni caso una Red Bull che su una pista dove conta poco l'aerodinamica e tanto la meccanica mi è sembrata molto molto a posto con entrambe le configurazioni. E poi il McLaren è indiscutibile. Secondo me loro in questo momento hanno il pacchetto che meglio si adatta a tutte le piste. Questa è la mia analisi. Vuoi aggiungere qualcosa? No, no, sono d'accordo con tutto e speriamo che nelle prove di Bre3 si rimettano un po' tutti a posto soprattutto Ferrari e ci regalino qualcosina in più rispetto alle gare passate. Allora, io sono positivo per quel che riguarda la guidabilità di questa vettura mi è piaciuta. Mi preoccupa un po' il discorso passo gara perché so che è legato anche ad altri fattori un po' come dire sott'occhio in questo periodo. vedremo un po' come reagirà la Ferrari. Gli altri hanno reagito bene. Bene ragazzi, questo è tutto. Noi adesso ci apprestiamo a vivere il tuo debutto in pista. Emozionato? Molto, molto, molto. Ora poi faremo delle foto dei video e li faremo vedere a tutti. D'accordo? Ciao a tutti iscrivetevi a tutti e due i nostri canali Selezione Nazionale Piloti e Selezione TV2 noi vi auguriamo una buona serata e ci vediamo domani per FP3 e qualifiche che faremo in diretta. Ciao!